ore 8 giorno 18 mi pare no 14 stiamo partendo per andare su lì al tour real quello lì proprio là sopra niente una stupenda mattinata fredda c'era il ghiaccio sulla macchina spettaculare adesso non usa l'oms se no è il ventardi dai non sprechiamo batteria ora è saccio che ora è non lo so quello là è il tour real che adesso poi proveremo ad andarci fin sotto cosa faremo adesso stiamo arrivando al lago blu ogni posto ha il suo lago blu vedi lago nero tour real ci sono indicazioni 2500 40 per andare al collo del longe si va dove c'è quelle pietre là le pietraie si gira intorno fa stissarsi e si sale lì in mezzo. Qui sopra c'è un altro laghetto, vedi dove scende l'acqua? Lì c'è tutto tempestato di laghetti. Questo che è un lago blu perché se lo prendi per il verso giusto guarda che blu ha di là. Un'acqua perfetta. Adesso se noi incalminiamo andiamo su fino a al tour real che tanto come vuota non c'è più granché da fare. E poi la torre se ne abbiamo voglia la facciamo altrimenti sta lì e va bene così. No dai ci vediamo dopo. Dopo una breve salita dal lago blu arriviamo al cosiddetto lago nero che è un bel spettacolino direi. E allora Antonella che ne dici? Tutto qua è proprio allo stesso livello nostro. L'altro era un po' più basso. Guarda che esci. ci sono in fondo il famoso tour real adesso vediamo che fare perché mi sa che la rampa da arrivare da lì arrivare su è un po' più che altro. Noi andiamo a vedere la su quel prato a guardare giù a vedere il canale di sotto e se la sopra non ci andiamo che se ne fai. Anche perché lo vedo piuttosto... Eh si tutto fa fiume. Bisogna vedere dove passa il sentiero ma ce l'avevano detto che è tutto... Ma infatti giù l'aveva detto perché probabilmente... io sono quasi alla hot tour. Io sono quasi alla hot tour. E io vabbè aspetto lui. Da sola io non ci vado. Adesso andiamo. Siamo arrivati eh. Siamo arrivati al colle lì dietro. Com'è che si chiama questa montagna che sono smemorato e me la sono dimenticato. Tour real. Ecco. Quello lì è il tour real che visto come si fa andare su penso proprio che non ci andrò. Riesco a sopravvivere senza questi ultimi 30 metri di roba. Sono troppo stanco per corde, chiodi e tutto quanto. Lì sotto sono le... il lago nero, il lago blu. Gli altri tre laghi che non sapevo là sopra c'è il colle del Longet di là in Francia. Di là in Francia. Spettacolare questa... via qua. Adesso scavalchiamo nella valle di là e andiamo a vedere dove è andata a cacciarsi Antonella. Oh! Vabbè torno poi indietro dopo a prendere la macchina fotografica. Questa qua c'è tutta la valle. Da sotto c'è il lago di Ponte Chianale. L'Antonella che si gode il piccolo tour real. Si vedi che c'è il sentiero, vedi che c'è il sentiero a scendere di qua. Certo che essere qui a pochi metri... No, però direi che abbiamo già fatto anche più di quello che abbiamo fatto. Per quanto mi riguarda... Direi che comunque è la bella conquista anche qui. Non ci penso proprio. Guarda qua. E qui, fin dei conti, là sotto... Oh cioè... Guarda che lì... Si volare vuol dire finire sul tetto della macchina. Giù 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 giù. Quello è il Monviso. Visto quasi a tu per tu. A viso a viso. Oh sì, mi gira un po' la testa. E vedere l'Antonella così. E vedere l'Antonella così che mi fa i giramenti. Guarda che sembra la faccia di un cane. Questa qui, là sotto. Ah, sì! Straordinario! Bella, bella! Ne è valsa la pena venire fin qua, anche se non mi faccio l'ultimo pezzo, credetemi... Non me ne può fregare di meno. Soprattutto guardate la giornata, che adesso un po' si sta velando. facciamo un bel 360 gradi da qui qui il tour real c'era scritto qualcosa che quota siamo qua comunque 2007 2008 e 50 e rotti ma togli 20 metri arrivare là sopra ma chi se ne frega di 20 metri spettacolare era partita con un vento antipatico qui sopra doveva esserci in teoria un vento di quelli che che levati adesso noi in teoria dovremmo scendere col sentiero di qua si scende si vede quasi troviamola sul gta grand tour delle alpi l'antonella non mi piace che stai lì si di qua un po più ripido ma è proprio più corto arrivare giù a chianale dai adesso mangiamo qualcosa poi se c'è ancora qualcosa interessante facciamo la ripresina a scendere bye bye amici ciao ciao